Non è come dicono loro che ci fermeremo solamente per un mese, vogliamo capire come facciamo a ripartire nel pieno dell'emergenza tra un mese, perché io credo che da adesso ad un mese cambierò poco a niente, anzi la situazione può ancora peggiorare in quanto andiamo incontro all'influenza stagionale che si mischierà con il Covid-19, se fino ad ora ci hanno capito poco a niente credo che tra un mese non ci capiranno proprio niente. Ha affermato il direttore Ferraro che secondo lei il 24 novembre non si ricomincerà, ma perché questo? Ma guarda, questo è il risultato di una gestione scelerata da parte del governo e delle regioni, purtroppo in sei mesi non sono state fatte niente, non è stato fatto niente per far sì che oggi ci avessimo fatto trovare pronti alla seconda ondata di questa pandemia. Il governo nazionale ha pensato di dare bonus per le vacanze alle famiglie e questo è il risultato che ci ritroviamo ad oggi. Sul campo quattro giornate disputate, giornate spezzatino, campionato che potrebbe essere a questo punto falsato. Ma guarda, non è che potrebbe essere falsato, è già falsato, cioè già prima di partire il campionato è stato falsato, perché si sapeva che prima o poi andavamo incontro a questo semi-lockdown, se così si può chiamare, partite rinviate all'ultimo momento. Ricordo la partita che noi dovevamo giocare a Mondoro sabato scorso, ci hanno avvisato in mezz'ora prima che stavamo per partire. La squadra sul pullman.